Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati a un nuovo video, siamo con xxngrang28, io sono in chiamata con lui ma non lo potete sentire Un attimo, oggi giocheremo con lui, edo, 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 oh rispondi, io abbandono, la facciamo almeno una partita Ah bebe, io abbandono, facciamo una singola Non so cosa fare Io sto giocando da pc Non so cosa fare Ok, io adesso mi faccio Sì, qua di rimpi Dai Per oggi faccio un po' Io non ho schien No guardate, non ho schien Oso questa guarda Ho pochissimi schien, non ne ho proprio, non ho schien e si sono tutte quelle d'un boccopierate non ho giornato non ho piccolo non ho detto no ho scelto non ho sci e ora va e infarti oh si raga lo poteste male ora lo devo mettere così Adesso sto giocando da A, per la Switch, se vedete male non credo è così, puoi scrivetelo nei commenti se vi do partire sto video, no boh guarda, ma dov'è, borgo no, io direi di andare a pinnacoli, capienti, vabbè vado a borgo Oh bro, oh Edo, Edo perché in questa season non hanno dato per il pass 9 gratuito? Oh, Nabbo, non c'è la cassa, però io non so come sto facendo un video, se non c'è il batacone, il gran 28, quello lì, eh, stai venendo? Ah ok, si facciamo l'accelo livello Ah, no, non trovo neanche il caricatore Ah, no, non trovo a comprare un calcol Ah, no, non trovo a comprare un calcol Oh, non trovo a comprare un calcol Ah, no, non capare un calcol Questa volta sono uscito con maglietta corta e pantaloni corti. C'è caldo. Freddo. Cesti basca. Tremendi. Ma io sono a casa mia. Dio caldo. Porco Dio. Traballato. Questo mai. Che lo farò? Perché se no... Mi ucciderò. Dormirò almeno sporco con i travestiti. Oh, c'è gente nabba. Oh, c'è nabbo. Oh, da dove? Da dove? Da dove? Oh, bec. Ciao, da.